musica 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 ma per cosa abbiamo guardato questa cosa? per te? ma che scusate? ahahahahah ahahahahah ahahah ahahah già mi dicono scusiamo la mamma della Daniela musica 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 cazzo c'è la mamma della Daniela che mangia per sé musica 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 abbiamo visto lo svertacolo di Gitto? bellissimo musica musica molto divertente, bello lui è molto bravo in forma smagliata eeeh ecco è finito presto dovevamo fare i drink si mancava la covid e alla fine abbiamo detto stiamo aspettando un quarto d'ora che c'è drink tanto mangiare uva non è non è con la magnum di e la magnum di e la magnum è questa è la magnum noi non vediamo a spese adesso è il titolo di quello che abbiamo detto io manco bevo un bicchiere di gatti ancora c'è questo è il cantante mascherato? buona l'esplosione ovunque no molto buono ma ne hai una stagia di stagione che c'è? cavolo 15 secondi dai dove? 9 8 9 8 6 6 5 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 da lì di dietro no